ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova presentazione un pack di camara una ditta spagnola adesso vediamo un dettaglio tutto quanto ed ecco qua banalmente sotto la lettera c trovate camara ed eccoci qua con le solite carrellate in dettaglio per mostrarvi i pilici camara è una ditta spagnola nonché l'autore è spagnolo mi ha contattato tramite instagram più che contattato mi ha fatto segui ho visto che il profilo non era diciamo di un privato cittadino normale ma intuivo che era qualcosa di inerente a farming quindi sul modding e difatti lui è Kale Ruega Modding Design vi lascio il link in descrizione sia di instagram che di facebook suo da dove potrete scaricare queste mod questi pilici prima che me lo chiediate è giusto che ve lo dica anche subito a questo punto sono solo per pc e non per console non penso arriveranno per console perché è un discorso di licenze di solito e ho vari script inoltre oltre ai bilici c'è anche un pianale e l'ultima cosa da dirvi che sono su questa mappa che è la famosa Alsos Seg nome impronunciabile ma Sumodab la trovate quindi ragazzi veniamo noi qua abbiamo preparato la mod sporca zozza al massimo devo dirvi purtroppo che non c'è usura non c'è livello di usura alcuno spero risolva siamo qui anche appunto per come dire dare immagine comunque una gran mod e vedrete che probabilmente sistemerà perché i dettagli sono tanti anche qua c'è tutto a posto col discorso idraulica e connessioni elettriche la parte più interessante che adesso andremo a vedere è il sistema sospensivo quindi diciamo diamo pure come dire pubblicità che ho visto che aggiorna spesso magari prossimamente metterà anche sta parte di usura qua direi che è il caso di sfruttare appunto la mappa che è per pc e per console il nome è impronunciabile non fatemelo dire di nuovo ma avete capito e sfruttiamo diciamo la serie di dossetti artificiali per farvi vedere come lavora bene il sistema sospensivo qua e lascio come dire la parola alle immagini come possiamo dire esattamente niente vale la pena insomma non è l'unico rimorchio così diciamo c'è un altro che ho ad occhiato che probabilmente potrei anche portarvi una presentazione anche di quello però che dopo non sia il mese qua del bidico insomma vabbè niente detto questo ragazzi cambiamo ma vediamo in negozio cosa troviamo ovviamente attrezzi carrelli ci mancherebbe allora andiamo con ordine anche se è difficile diciamo fare ordine in questo caso abbiamo l'RT rallato l'RT16 e l'RT16 normale due assi timonato ovviamente stesse portate sia di litri 18.000 e qualcosa quasi 19.000 lui parla di metri cubi ci siamo dopo vi faccio vedere e solite cose che portano vabbè fin qua non c'è nessun problema poi c'è l'RT16 più che porta 22.000 e qualcosa lui lo segna come 23 metri cubi andiamo a vedere intanto questo blocchetto che così intanto definiamo un attimo il discorso rallato più discorso timonato in queste due versioni più vediamo il rarlato velocemente allora le opzioni non sono uguali per tutti bisogna stare un attimo attenti quindi quando qua dice porte con due intendiamo due aperture porta normale e c'è la porta normale con lo scarico diciamo del cereale infine sempre a costo zero le due porte con lo scarico del cereale qua il discorso design ve lo faccio vedere una volta per tutte velocemente cambia non sto qua a farvi vedere ogni singola cosa ma cambia diciamo vedete sia a livello di adesivi di appunto marchiatura eccetera sia anche proprio lo stesso nome camara secondo me questi qua sono dettagli che non occorre perderci troppo diciamo già questo è il più interessante perché avete visto continuo a ciclare per avere o la ruota di scorta o la scaletta e al posto di ruota di scorta ovviamente o chiamiamolo il balcone il doppio balcone configurazioni ruote misure reali qua ovviamente il solito discorso che ve l'ho spiegato come funzionava non so se sono il massimo della bellezza però queste avete e il discorso copertura che mi interessava farvelo vedere sin dall'inizio forse perché era meglio perché allora c'è canvas che è la copertura più la cisternetta qua diciamo dell'acqua aggiuntiva lascia solo la cisternetta dell'acqua o appunto il telone mi interessava tirarla via perché adesso possiamo vedere forse un po' meglio il discorso delle porte dopo le vediamo anche esternamente quindi ripeto non voglio perderci troppo qua in negozio continuo a ciclare così intanto vedete il tutto torno indietro questo abbiamo visto rallato il timonato è praticamente uguale per il semplice fatto che è lo stesso modello qua cambiano le porte ok faccio veloce e discorso ruote che ce n'è una in più se non erro vabbè e ancora e ancora il discorso serbatoieto dell'acqua qua lavamani diciamo e e telo 18.000 e qualcosa litri e siamo fermi lì arriviamo a questo benedetto RT16 più se mi sentite agitato è perché veramente cioè ho dovuto studiare sopra un attimo prima per capire perché ci sono tutte queste versioni che secondo me poteva farne uno unico diciamo almeno al discorso timonato ma vabbè vabbè non giudichiamo questo quindi ha capacità ve lo dà già subito a 22.000 e rotti litri lui lo segna appunto come 23 e qualcosa metri cubi o 19 quindi tornate al 18.000 litri che è quello di prima cambia solo che avete appunto un attimo di più il montante qua sul portellone quindi il meccanismo di scarico abbiamo già visto porta normale porta con scarico per cereale due porte con scarico cereale e siamo tornati discorso ancora scritte ma ve arrangiate e il design davanti siamo ancora allo stesso punto di prima discorso ruote tre tipologie e di nuovo qua avete il serbatoietto dell'acqua ma non vi dice più il discorso telone neanche se avete diciamo le sovrasponde quindi anche per la serie RT 16 cioè per la serie RT 16 abbiamo finito bianco in ordine c'è la serie RT H 16 e 16 più allora velocemente avete visto che come prima qua cambia qualcosina segna addirittura Polonia Spagna e quindi il discorso di adesivi come sommessi e accessoristica probabilmente perché ci sono discorsi di produzione e o mercati diversi ma vedetelo voi come una specie appunto di design quello che vi piace di più discorso solito davanti balcone o no balcone diciamo posa a piedi per controllare quando caricate sempre il discorso porta posteriore avete le vostre alternative qua almeno su questa versione ci sono gomme artigliate diciamo più da campo le altre più stradali anche lì è un peccato che non abbia unito le versioni però scelta sua non so cosa dire e qua nuovamente cisternetta dell'acqua telo eccetera perfetto questo adesso non mi perdo più a far vedere tutto è solo la versione quella con sovrasponde diciamo e quindi alla fine siamo lì cioè siamo proprio lì si tratta più o meno dello stesso modello finale beh più interessante questo non vi faccio vedere tutto perché adesso abbiamo capito è la versione tre assi molto bello molto interessante cioè veramente fa la sua figura spendo un attimino di più ma non troppo sulla versione VR16 che c'è appunto rallata e timonata vediamo un attimo questo qua avete ancora discorso sovrasponde controllate voi appunto tutte le capacità che può avere discorso design non perdiamoci qua davanti il solito discorso stavolta ha messo anche una cassettina degli attrezzi molto interessante anche la doppia livrea discorso gomme vorrei capire queste piccole gomme qua ma vabbè probabilmente ci sono anche nella realtà e ancora il solito discorso copertura e non e serbatoietto dell'acqua cosa uguale identica precisa sulla versione timonata quindi avete capito che in realtà poteva un attimo condensare i modelli però è una sua scelta e sta a voi se potete scaricarli tutti o qualcuno in specifico l'ultima parte da affrontare anche velocemente perché ormai sapete come funziona sono solite combinazioni di tasti per far scarica qui faccio vedere appunto come scarica uno dei tanti bilici da dietro per far vedere un po' di animazioni la porta del cereale con le animazioni del leveraggio unica nota non vi faccio vedere perché tra l'altro sta male mostrarlo però ve lo dico se uno chiude il telo il plane va fuori buca come il telo diciamo ecco è un po' un peccato anche questo perché insomma però io sono convinto e gli farò notare anche al modder che si stemerà in futuro quindi insomma intanto teniamocelo come così l'altra parte da dirvi non sto a farvi vedere ogni singolo bilico ma in alcuni quando c'è la possibilità appunto di aprire e chiudere sponde si fa tutto tramite mouse quindi tasto sinistro e tasto destro ovviamente non sto a dirvi col sinistro su e giù questa volta è troppo intuitivo quindi sappiate che comunque ci sono varie animazioni e si tolgono tutto via mouse potete fermarvi in qualsiasi momento cioè io potrei tirar via una sponda e fermarmi o tirar via l'altra quindi adesso vi rifaccio vedere tutto diciamo al contrario e sempre appunto tramite mouse questo è il terzo ed ultimo piccolo problemino che appunto ha quei nastri che se mettete su due diciamo due piani di balle le tien dentro se no no diciamo comunque segnalerò tutto però resta il fatto che è una mod come dire pesa poco è senza errori e a mio avviso è fatta bene è giusto insomma anche diciamo un attimo portare un po' di Spagna qua in Italia secondo me e veniamo all'ultimo qua il pianale che ovviamente si trova sotto tecnologia per le balle configurazione straw quindi intende appunto proprio trasporto balle oppure con spondina diciamo più bassa per trasporto palle discorso design semplicissimo vedete qua da voi quindi qua c'è veramente poco da dire però è sempre della stessa ditta e fa la sua bella figura diciamo e in questo caso ha i nastri per fissare appunto balle e pallet e non devo dirvi altro perché ovviamente è un pianale semplicissimo però in mezzo a tutti i rimorchi fa piacere insomma avere anche questo quindi niente concludo con questa bella immagine secondo me che fa effetto dicendo di appunto scaricare queste mod provatele fatemi sapere insomma se vi piacciono ci possono interessare o meno e niente mi sembrava giusto insomma appunto dare anche un attimo di visibilità a sto ragazzo che ha fatto un buon lavoro secondo me nonostante qualche accorgimento da sistemare ma un gran bel lavoro ragazzi un saluto a tutti e alla prossima ciao a tutti 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 Grazie a tutti.